Ormai è scocchiato, dobbiamo riconoscere, dovete riconoscere che ci sono delle situazioni di interesse pubblico anche internazionale e soprattutto nazionale che ci riguardano tutti, su cui bisogna forre l'attenzione immediatamente a fare qualcosa per i bambini che devono tornare dalle loro famiglie, i bambini strappati dalla braccia dei loro genitori, anche in fasce come è successo a noi, perché non intervenite, perché non fate qualcosa?